Ci siamo quasi, settimana scorsa, a parte del lavoro istituzionale e formale, però sono stati presentati i primi progetti al CONI regionali, in cui hanno valutato molto positivamente questo primo progetto, questo primo step che dobbiamo affrontare da qui a brevissimo. In settimana prossima quindi verranno consegnati ufficialmente gli elaborati, il CONI immediatamente darà parere favorevole avendo acquisito già un parere in una fase di preistruttore delle pratiche, quindi fatto questo il credito immediatamente sarà disponibile a farci dare il via a questi lavori.